Sembrerebbe che questa esperienza continui, usciamo adesso da un incontro con le associazioni di categoria, con il nuovo Consiglio Camerale e si è condivisi all'unanimità di continuare con questa esperienza, con questa squadra che questa volta io credo avrà un grandissimo valore aggiunto che è l'entrata della Conf Commercio, è innegabile che il recupero di un'associazione così importante per il nostro territorio per noi è stato fondamentale. Durante il suo mandato ci sono stati tantissimi problemi da risolvere, forse il periodo più difficile a livello anche economico ed imprenditoriale degli ultimi 20-30 anni, una crisi che non conosce fine e poi il problema del porto ma anche il ritorno del collegamento con la Croazia dopo tre anni. Mi viene da dire che lei è ottimista perché credo che i prossimi anni non è che siano tanto migliori rispetto a quelli che ci lasciamo alle spalle. Guardiamo al lato positivo, il lato positivo è che indubbiamente tra i successi da scrivere a questa Camera di Commercio c'è la ripresa del collegamento con la Croazia, c'è un porto che ha ripreso a funzionari e qui va dato merito a tutte le istituzioni del territorio che si sono date da fare. Stiamo già parlando del 2015 perché il problema porto è sempre lì, è sempre presente e tutti i giorni ci richiama la massima attenzione che il porto ha bisogno ancora di cure profonde e poi diciamocelo francamente questo piano regolatore portuale ci deve dare un nuovo porto perché il nuovo porto, la nuova infrastruttura ci aiuterà molto per il problema che ci assilla ormai negli ultimi anni che è quello dell'insabbiamento.